Non posso farlo perché da quando sono nato io ho frequentato questa abitazione con questi due personaggi ed erano due personaggi importantissimi di Cosa Nostra. Ho fatto una promessa a mio padre, buonanima, che non avrei mai indagato perché erano amici di famiglia ma amici di lavoro, più che altro. Nini mi ha guardato e mi ha detto che lo sapevo già. Quando Nini morì...